buongiorno buongiorno amici buongiorno amiche siamo qui con un iphone no in realtà siamo qui col mio solito samsung a52 qui abbiamo la sorpresa e qui vi spiego che cosa c'è c'è questo nuovo box android che mi è appena arrivato da aliexpress di cui poi parleremo diffusamente questa è la sua scatola vedete niente di niente di interessante e qui c'è il mio buon vecchio a wireless attualmente staccato che però lascio qui perché poi faremo un confronto parliamo delle caratteristiche tecniche di questo box 4 gigabyte di ram 64 gigabyte di memoria interna la possibilità di inserire una sim ha il gps integrato e chiaramente bluetooth wifi e tutto quanto vedete attualmente è collegato alla mia usb e questa è la sua schermata principale a dimenticavo la cosa più importante il processore è uno snapdragon 665 non sono le solite porcherie unisoc questo è uno snapdragon 665 vedete anche le dimensioni non sono molto molto più grandi dei di a wireless eppure lui fa molte più cose di a wireless e adesso ve lo dimostro perché appena collegato via via usb vi appare questa schermata subito senza tante senza nessun settaggio questa schermata è più o meno quella del classico box android no quindi potete installare le app potete andare scorrere le cartelle installare file apk lanciare film lanciare musica quello che vi pare potete chiaramente installare o dal play store con il vostro account o manualmente tutte le app possibili immaginabili cosa che con android auto wireless a volte non funziona pensate a netflix netflix su android auto non va e invece qui va va lo e non solo va anche in movimento quindi non ci sono le limitazioni di android auto quindi se qualche passeggero ci vuole vedere una serie netflix mentre voi guidate lo potete fare tranquillamente già che ci siamo un'occhiata vedete al gps che sta fixando tranquillamente tornando alla schermata home allora cosa c'è da capire voi lo attaccate lui si attiva la prima cosa da fare è collegare il bluetooth collegarlo quindi il vostro smartphone al bluetooth del box a quel punto voi potete telefonare direttamente qui dal box utilizzando l'app telefonica oppure potete telefonare se avete inserito una sim nel box da qui e chiamerete con la sim col numero della sim seconda cosa da fare è collegarlo il box ad internet come potete farlo o mettendo qui una una vostra sim dati oppure come ho fatto io collegando il box alla mia auto la mia auto ha una sim proprietaria con dei dati e quindi ho collegato il box alla mia auto comunque volendo potete collegare il box al vostro smartphone tramite tethering queste sono le due possibilità quindi fatto ciò collegato via bluetooth collegata di internet siete a posto vedete è molto fluido a me non si è mai non ha mai crashato non ha mai non mi ha mai dato problemi dentro c'è android 11 c'è la lingua italiana anche avesse avuto android 12 cambia poco perché tanto è non cambia proprio niente ci avesse avuto anche vedete il modello è questo qua tornando a noi perché comprarlo perché lui fa tutto ciò che fa un box android quindi quello che ho detto fino adesso e non vi mancherà a wireless perché avrete anche android auto eh sì avete anche android auto vedete guarda con questo con questa icona magica si va in android auto quindi lui è collegato tranquillamente alla mia alla mia macchina tramite android auto vedete quindi voi con una spesa poco superiore a quella di a wireless oppure card sci-fi avrete un dispositivo molto più completo potete fare molte più cose e questo insomma non è non è da sottovalutare l'unica cosa ecco che io vi posso dire che può frenarvi è lui è visto dalla macchina come un dispositivo apple nel mio caso questo porta due svantaggi uno che non vedo le copertine spotify in questo momento vedete ho un brano di spotify in riproduzione questo qua però che cosa succede che non mi riproduce qui la copertina perché mi dice che è collegato un iphone invece con a wireless con card sci-fi con carling kit a 2a qui vedo anche la copertina inoltre sempre da qua io con quei succitati posso vedere la lista chiamate e fare le telefonate invece in questo caso per farle possiamo farle o attraverso o attraverso android auto oppure oppure farle come vi ho fatto vedere prima le potete fare con l'applicazione questa qua della sim quella del telefono e quindi io per onestà vi ho detto che secondo me questo box è superiore a questo tipo di box perché ha tante possibilità in più netflix lanciare dei film che avete via file un play store che installate il cavolo che vi pare però in meno rispetto a questo è che io nel mio caso perdo qui per esempio le copertine spotify se tanto la vostra auto non mostra qui le copertine spotify o non ve ne frega niente le copertine spotify secondo me vale la pena comprare questa tipologia di prodotti perché sono molto più completi perché android auto c'è e funziona benissimo quindi non lo perdete android auto e sono prodotti molto completi molto potenti direi che abbiamo detto tutto vi metterò in descrizione a questo video il link aliexpress da cui l'ho comprato potete fare tutte le domande che volete se mi viene in mente qualcosa che ho dimenticato in questo video ve lo scriverò sotto sotto nella descrizione saluto pasqui che ci ospita in questo canale e gli amici di del canale youtube revotec a cui vi consiglio di iscrivervi ciao